faccio un ufo ciao a tutti ed eccomi qua carico scarico il pennello e faccio un bellissimo uvetto così così ecco un ufetto eccoci qua faccio la linea immergiamo e scarichiamo ecco un ufo carino è venuto bene e poi roti eccolo qua carino ora faccio il paesaggio a notario se mi ha domandato lo facciamo fra pochissimo cammella per un attimo attimo così da scordare meglio grazie a tutti Grazie. Opla, adesso qualche alberello, uno qua, un altro qua, eccoci qui, e un altro alberlo, una casa, facciamo, una casetta. Opla, una piccola casetta. Una piccola casetta. Facciamo un cispoietto qua, puntelliamo, e abbiamo fatto, adesso le nuvole. Facciamo una nuvola qua, una bellissima nuvola. E un'altra nuvoletta qua. E un'altra nuvoletta qua. E poi lo suonvo. Eccoci qua. Qualche altra nuvoletta, l'abbiamo quasi finito. Buongiorno, scelgo la descrizione di alta qualità di Broglie. Broglie, dai mail. A chi ti rende luce? Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. L'abbiamo fatto l'ufo Ciao ciao, alla prossima